Danilo Iannascoli, è la settimana del derby dei derby, probabilmente mai il derby d'Abruzzo è stato così importante a livello ovviamente nazionale, come si accosta il Pescara Calcio 5 a questo appuntamento d'elite? Con molta tranquillità, per fortuna in queste prime tre partite abbiamo colto tre risultati positivi, una vittoria e due pareggi, perciò siamo abbastanza tranquilli e ci dispiace soltanto non avere la Rosal completo, questo sicuramente non l'avremo perché Eka non è ancora arrivato il tesseramento, anche se c'è qualche giorno ancora la speranza è l'ultimo a morire, poi però abbiamo qualche giocatore non in perfetta forma e tra questi soprattutto Nicolodi che è uscito dall'ultima partita malconcio, ma era una cosa normale, ha avuto un paio di interventi, soprattutto quello all'ultimo minuto, insomma quasi da codice penale. Tre partite, tre risultati positivi, però ad onor del vero potevano e dovevano essere tre vittorie se non c'erano delle sviste arbitrali abbastanza evidenti, una questione questa delle sviste arbitrali che accomuna i delfini biancazzurri del calcio a 5 ma anche i fratelli del calcio a 11? Sì, purtroppo è così, non riusciamo a capire qual è il motivo, alcuni sul calcio a 11 dicono che è stata la denuncia che noi l'anno scorso abbiamo presentato nella gara con il Chievo contro Mazzoleni, però quella denuncia è stata archiviata in maniera che ti lascia pensare molto perché l'hanno giustificata con le due dichiarazioni che non combaciavano tra quella nostra e quella dell'arbitro, sarebbe stato il massimo se l'arbitro a ammesso di aver detto quello, però andiamo avanti, noi anche in questo inizio del campionato con il pescare a calcio non è che stiamo facendo delle grosse polemiche con gli arbitri, anzi stiamo cercando di tenere il più possibile sul calcio a 5, insomma ci abbiamo ricevuto a Roma, soprattutto a Roma con la Lazio e qui anche in casa un trattamento che non è giustificabile né dalla mole di gioco della squadra né dall'atteggiamento dei giocatori perché noi facciamo un calcio propositivo, perciò non è che siamo quelli che aspettano danno legnate o giocano in maniera un po' scorretta, assolutamente, però andiamo avanti cercheremo sempre di impostare il nostro gioco e di cercare di vincere perché abbiamo giocato meglio degli altri. Punti di forza e punti deboli dell'acqua e sapone a detta di Danilo Iannascoli? Ma guarda, punti di forza intanto la società, su questo non c'è alcun dubbio, è una società seria fatta da una famiglia di imprenditori che è importantissima, che si è unita agli a Iervolino che in passato ha riuscito a portare lo Scudetto e la Coppa dei Campioni a Montesilvano e perciò penso che questo è sicuramente il loro punto di forza. A livello di giocatori è chiaro che le due rose unendosi hanno portato il meglio delle due squadre. È una squadra fortissima, è una squadra candidata a vincere lo Scudetto e noi cercheremo di essere tra quelle che gli possono dare fastidio e che si possono inserire in questa lotta importante perché pensiamo di aver fatto anche noi una bella squadra. Per quanto riguarda invece i punti deboli non lo so, anche perché non ho visto bene la squadra quest'anno giocare, ho visto soltanto gli spezzoni di gara, non ho visto quella a Napoli perciò non mi sento ancora di giudicare a livello di gioco la squadra rispetto a quella dell'anno scorso che invece conoscevo un pochino meglio. A proposito della famiglia Barbarossa, derby nei derby, visto che con ruoli e incombenze diverse condividete anche l'esperienza del calcio 11, che cosa dirà agli esponenti della famiglia Barbarossa prima del fischio d'inizio del derby? Ma non lo so, li abbraccerò sicuramente perché, ripeto, c'è un grande rapporto di stima in questi anni penso che sia reciproca. Poi è chiaro che io cercherò di batterli come loro cercheranno di battere a me. Poi cosa devo dirgli? Complimenti per tutto quello che hanno fatto e grazie soprattutto perché ci hanno voluto dare questa mano al Pescara in questo momento molto particolare per l'economia italiana. Non era facile comunque trovare uno sponsor importante e noi ci siamo riusciti, perciò siamo onorati come Pescara Calcio di avere uno sponsor così importante sulla nostra maglia come primo sponsor e poi a loro tra l'altro si è aggiunta un'altra azienda molto importante e perciò sotto questo aspetto siamo veramente felici. A proposito di questioni societarie che legano sia il Calcio 5 che il Calcio 11 e Biancazzurro vogliamo definitivamente chiudere il patema che c'è nella tifoseria dopo alcune dichiarazioni che lei ha rilasciato a rete 8 e che lasciavano presagire una possibile di partita tra virgolette ovviamente dai ranghi societari, dichiarazioni che sono state mal interpretate a mezzo stampa chiariamo definitivamente la situazione. Sì sì ma io l'ho anche chiarita subito il giorno dopo a domanda precisa del suo collega io ho risposto che sono disponibilissimo a lasciare le mie quote se c'è qualche imprenditore serio che le vuole prendere e rilevare anche in parte e che vuole darci una mano metto a disposizione subito le mie. Poi è stato interpretato invece che io sarei andato via non ho assolutamente detto questo, il mio impegno è sempre massimo e tutto quello che posso fare per la mia squadra io lo farò sotto qualsiasi veste, l'ho sempre fatta anche prima in altri termini con altre mansioni e figuriamoci adesso che sono ancora più coinvolto. Torniamo per concludere al derby di Futsal. Se Danilo Iannascuisi dovesse travestire da giornalista e fare il titolo per preannunciare questa partita, come intitolerebbe il suo giornale? Ma non so il titolo però quel messaggio che voglio portare è che tutti quegli appassionati del Futsal e soprattutto anche quelli che hanno visto qualche gara nelle passate stagioni che venissero al palazzetto perché questa è una gara tra due squadre importantissime, tra due squadre che stanno cercando di onorare l'Abruzzo e daranno uno spettacolo eccezionale perciò non è mai successo che due squadre così forti fossero in Abruzzo, perciò è un bene per tutti poi al di là, ripeto, del risultato sarà sicuramente uno spettacolo da ricordare.